Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video paranormal. Amici, avete mai sentito parlare del caso di Doris Bitter? Il caso di Doris è una delle storie di poltergeist più agghiaccianti e documentate mai accadute. Ci sono articoli, documenti scritti, foto, polaroid, a testimonianza della veridicità di questa storia. Una donna single con quattro figli a carico e dal passato difficile denuncia violenze fisiche e sessuali da parte di presenze soprannaturali all'interno della sua casa. Una storia talmente atroce da aver ispirato addirittura un film, The Entity. Ma amici, prima di iniziare con la storia di oggi, vi chiedo, se siete appassionati come me di paranormale, misteri irrisolti e storie true crime, di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi tutti i miei prossimi video. Ma adesso iniziamo! Siamo in California. Doris si trasferisce qui con i genitori all'età di 10 anni. Sono dicetto sociale molto basso e sembra che non abbia avuto un'infanzia molto felice, a causa dell'alcolismo di entrambi i genitori e della mancanza di attenzioni e di amore che un bambino dovrebbe avere di diritto da chi decide di metterli al mondo. Ma questo purtroppo non è affatto scontato. Non si sa molto del suo passato, ma sembra che all'età di 15 anni abbia abbandonato la casa dei genitori per i continui maltrattamenti e per il fatto che fosse abbandonata a se stessa. Gli anni passano. Siamo nel 1974. Doris ha 30 anni. È single. Ha quattro figli. Ha avuto con quattro partner diversi. Ha una situazione economica molto difficile. Quando arriva a Culver City, Doris prende casa all'11547 di Braddock Drive. La sua situazione economica è davvero precaria, però lavora sodo per cercare di non far mancare nulla ai suoi figli, ma i soldi però non bastano. Doris ha una bambina di sei anni e i tre bambini hanno 10, 12 e 13 anni. La donna ha un aspetto esile, un viso sofferente. Qualcuno solo a guardarla pensa che possa avere dei problemi psichici. Una donna come lei in quegli anni, alcolizzata, con quattro figli a carico, povera, è una donna da emarginare per l'ipocrita società e non una donna da aiutare. La sua casa è fatiscente, manca di pulizia, è tutta in disordine. Spesso manca anche il cibo in tavola. Insomma, una vera sofferenza e per giunta in agguato c'è qualcosa di pronto per fare a pezzi del tutto questa famiglia. Sì, perché a turbarli non furono solo i problemi della donna e i problemi economici, ma qualcosa di più inquietante era pronto a cambiare per sempre le loro vite. Appena trasferiti nella loro nuova casa, tutti quanti notarono qualcosa di particolare. Le porte che si aprivano e si chiudevano da sole, ombre scure apparire e svanire, oggetti che ritrovavano spostati. Insomma, avevano inteso che qualcosa non andava lì dentro, ma fortunatamente all'inizio non diedero molto peso alla cosa, perché comunque non era successo nulla di grave, fino a quando una notte tutto volse al peggio, portando l'intera famiglia sull'orlo della disperazione e del terrore, perché le notti per loro diventarono dei veri incubi ad occhi aperti. Ogni volta che calava il buio i bambini iniziavano a piangere, ad urlare disperati e a nascondersi sotto le coperte, perché sapevano che di lì a poco avrebbero sentito la loro madre piangere disperata e urlare a squarciagola. Ma non solo, di punto in bianco, la temperatura in casa cambiava, l'aria diventava gelida e i bambini iniziavano a sentire dei suoni, come dei versi di animali. Quello che raccontò Doris fu qualcosa di davvero incredibile, perché ogni volta, ogni notte che si apprestava ad andare a dormire, sentiva nella sua stanza di non essere sola, come se ci fosse qualcuno in un angolo in agguato pronto ad aggredirla e fu proprio così. Tutto iniziava con un odore nauseabondo, l'aria diventava gelida e vedeva nell'aria aleggiare un sorriso macabro, un'ombra molto grande dirigersi verso di lei e sentiva distintamente una mascella morderle le cosce. Vedeva anche due ombre più piccole che le tenevano le braccia paralizzandola a letto. L'ombra più grande scivola sopra di lei, sul letto, la schiaffeggia fino ad usarle violenza. Sì, avete capito bene purtroppo. Doris urla, piange, si dimena, ma non può nulla contro quella forza invisibile. Il mattino seguente la donna pensa solo di aver avuto un terribile incubo. Non riesce neanche ad immaginare un'eventualità diversa, fino a quando non scopre sul suo corpo i lividi, i morsi e non si rende conto appunto della violenza che ha subito. Doris pensa subito di essere impazzita e che molto probabilmente era stata lei a causarsi tutta quella violenza. Decide quindi di non pensarci più. Ma quello non fu un fatto isolato, fu uno strazio che andò avanti per diverse notti. Una mattina si decise ad andare all'ospedale e di raccontare tutto quello che le era successo, ma come possiamo immaginare la versione di Doris non venne neanche presa in considerazione. Vennero però accertate le violenze e soprattutto la violenza sessuale. Il giorno dopo Doris decise di recarsi a Lucla, l'università di Los Angeles, però nella sezione di parapsicologia. E fu qui che il 22 agosto del 1974 incontrò Kerry Gaynor e Barry Tuff, due famosi parapsicologi che stavano tenendo una conferenza sul paranormale all'interno della biblioteca dell'università. Doris si fa coraggio e decide di andargli incontro per potergli parlare della sua situazione. All'inizio però i due uomini non la prendono sul serio per via del fatto che emanava un forte odore di alcol. Fu quando però videro i lividi e i graffi sul suo corpo che si resero conto che forse la donna non stava mentendo e decisero di indagare su quel caso sperando di poterle essere di aiuto. Difatti qualche giorno dopo si recarono a casa sua, ma quello a cui assistettero appena entrati li lasciò sconvolti. La casa era in condizioni pessime, era sporca, puzzava di rancido, era tutto in disordine, i piatti affollavano il lavandino e le bottiglie di alcol regnavano sopra i mobili. Ma la cosa peggiore furono le condizioni dei figli di Doris, erano sporchi anche loro, abbigliati con abiti logori, maleodoranti, erano in evidente stato di abbandono. Era chiaro che la donna non era in grado di poter far fronte a nessuna situazione, tantomeno provvedere ai propri figli. Ma quello che li lasciò un po' esterefatti era l'atteggiamento che aveva avuto con loro di menefreghismo e non li aiutò per nulla, tanto da far decidere ai due parapsicologi di abbandonare quella casa per sempre. Ma quella non fu l'unica volta che videro Doris, perché il giorno dopo una telefonata disperata in lacrime della donna li farà correre in suo soccorso. Doris affermò che da quando i due parapsicologi avevano abbandonato la sua casa le cose erano addirittura peggiorate. Pensate che i due uomini decisero di trasferirsi lì e nelle dieci settimane che seguirono documentarono di tutto. Tremori continui delle luci, rumori, cassetti che si aprivano e che si chiudevano da soli, cambi repentini della temperatura, tentativo di soffocamento e odori nauseanti. E questo avveniva soprattutto quando Doris inveiva contro le presenze e ne furono individuate ben quattro. Uno, il più innocuo, era lo spirito di un signore anziano che loro nominarono Mr. Key e si pensava che potesse essere il nonno dei bambini che era mancato di recente perché i ragazzi erano completamente a loro agio con lui. Le altre tre invece erano le presenze più malvagie, demoniaca che avevano preso di mira la povera Doris. La squadra messa su per indagare all'inizio non era certa di voler portare questo caso all'attenzione pubblica perché al di là di alcune foto di poltergeist che potevano essere facilmente manipolabili non avevano nulla di concreto in mano. Ma la disperazione di questa famiglia li portò a continuare a cercare delle prove concrete. Difatti ingaggiarono dei fotografi professionisti e chiesero loro di scattare delle foto solo con le polaroid che non potevano essere modificate. Ma non solo, venne anche ingaggiata una troupe televisiva perché volevano avere più immagini possibili in mano. Pensate che un giorno decisero di sfidare le entità tramite Doris, le chiesero di insultarle e difatti i risultati non tardarono ad arrivare. All'improvviso la temperatura nella stanza cambiò, le luci iniziarono a tremare e un odore nauseabondo arrivò alle narici di tutti. L'entità si palesò di fronte a 30 persone, una nebbia, una specie di nebbia verde scuro si modificò fino a prendere le sembianze di un mostro enorme e muscoloso che apparve e scomparve all'improvviso lasciando tutti scioccati. Furono talmente impietriti che un membro della troupe addirittura svenne e il tonfo della sua caduta fece risvegliare tutti dallo stato di trance in cui sembravano essere caduti. Una volta guardate le registrazioni però si accorsero che purtroppo non vi era nulla di quello a cui avevano assistito. Nelle polaroid però vi erano delle ombre e delle luci davvero molto strane, come una delle foto più famose che ritrae proprio Doris sul letto e un fascio di luce sopra la testa. Questa foto è autentica, venne analizzata nel corso degli anni da diversi esperti e fu ritenuta vera. Pensate che nell'angolo della stanza il fascio non si deformava, quindi non era stato creato da una luce artificiale. Il fatto poi che vi furono 30 testimoni quel giorno fece sì che questo divenne uno dei casi più documentati e discussi al mondo. Molti credevano che Doris avesse dei poteri incredibili, che fosse capace di canalizzare una grandissima energia negativa che poteva aprire dei varchi con il mondo del paranormale. Questo spiegherebbe perché una volta trasferiti in Texas nessun altro ebbe problemi in quella casa, mentre Doris continuò ad averli per tutto il resto della sua vita, fino a quando non morì per un'insufficienza polmonare nel 1995. Nel corso degli anni vennero intervistati anche i figli di Doris, soprattutto il più grande, Brian Harris, che all'epoca dei fatti aveva 13 anni. Lui confermò tutto, tutta la sofferenza che avevano dovuto subire in quegli anni. Brian raccontò anche un fatto particolare e cioè che la mamma fin da ragazzina era solita usare la tavola Ouija. Questo è molto interessante perché potrebbe spiegare queste presenze che l'avevano seguita e tormentata per tutto il resto della sua vita. Brian raccontò anche un altro fatto abbastanza incredibile. Doris ad un certo punto si convinse di essere rimasta incinta di quell'entità, cosa che assolutamente non era vera. Amici, una storia davvero assurda e mi fa tanta tenerezza pensare che nessuno abbia teso una mano per aiutare questa donna e i suoi bambini. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi. Credete davvero che forse l'uso della tavola Ouija abbia permesso a queste entità di perseguitare Doris per tutta la vita. Oppure pensate che sia vero quello che avevano asserito i due parapsicologi, cioè che aveva dei poteri straordinari, era in grado di accumulare tutta l'energia negativa che si era portata dietro per tutta la sua vita e poi trasformarla in un potere sovrannaturale. Io non lo so, però sono molto curiosa di sapere che cosa ne pensate voi nei commenti. Siamo arrivati al termine di questo video, mi raccomando se questa storia vi è piaciuta lasciatemi un like, io vi mando un bacio grande e ci vediamo la prossima settimana con un'altra storia. Ciao amici!